Parte a Sulmona la realizzazione del tratto di ferrovia che consentirà di accorciare il tragitto tra Pescara e il capoluogo di regione e velocizzare il collegamento ferroviario Pescara alla Quilaterni. L'importo dei lavori di 12 milioni di euro con la realizzazione di un tratto di 700 metri di strada ferrata e di una stazione collegata con lo scalo ferroviario di Sulmona che avrà in dotazione un parcheggio. Era ora, l'abbiamo lungamente attesi, tra un motivo e l'altro si ritarda sempre un po' troppo nel concludere queste progettazioni, c'è da dire che le ferrovie sono forse l'opera più complessa da progettare, da mettere sul terreno, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sollecitato più volte RFI, oggi siamo qui con loro a vedere un cantiere già pronto con il rilevato già disegnato, già si comincia a vedere quale sarà il nuovo tracciato di questa bretella dove è collocata la nuova fermata, come verrà collegata la stazione centrale di Sulmona esistente per creare un sistema di interscambio efficace, funzionante, è un grande giorno per l'Abruzzo perché questa bretella che unisce il capoluogo della regione alla sua città più grande, cioè l'Aquila e Pescara, senza dover fare cambi, garantendo la continuità del servizio, è davvero un passaggio molto importante, una svolta per il trasporto ferroviario in Abruzzo. Ieri abbiamo portato il treno fino alla stazione di Roma San Pietro, è la prima volta che un treno dell'azienda regionale abruzzese arriva fino al Vaticano, praticamente alle porte del Vaticano, ci stiamo preparando per il giubileo del 2025, ci stiamo preparando dalla prossima estate a avere anche una linea diretta che porta a Roma con i treni dell'Abruzzo. Insomma credo che finalmente sul tema del trasporto ferroviario, del potenziare la ferrovia, il trasporto su ferro in Abruzzo, stiamo davvero imboccando la strada giusta. Parte questo cantiere che è costituito dall'opera principale che è la bretella di raccordo fra la linea Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e la Sulmona-Pescara, quindi è una bretella di circa 700 metri che potrà consentire il collegamento diretto di queste due linee. È costituita anche da altre opere, quali attraversamenti sotto la sede ferroviaria, è una nuova viabilità di collegamento con la futura fermata di Sulmona-Santa Ruffina, con parcheggi e quindi tutti gli accessi necessari. È un investimento di 12 milioni di euro che vedrà la sua attivazione alla fine del 2024. Dovremmo fare in modo tale che isoli il meno possibile Sulmona, quindi che ci sia un collegamento utile con lo scalo ferroviario. Sulmona storicamente e nodo ferroviario noi dobbiamo riprendere quella direzione e quindi la priorità assoluta che io mi sono permesso di rappresentare questa mattina ai rappresentanti dell'ente ferrovie RFI e Trenitalia è la Pescara Roma perché velocizzare quella trattasi è veramente finalizzata allo sviluppo di questo territorio.